2. Spiraloide Attraverso Pietro Ubaldi Il movimento rotatorio del sistema atomico non è semplicemente circolare, ma è più precisamente spiraloide. Vedemmo nello studio della traiettoria tipica dei moti fenomenici che questa è la linea del loro divenire. Tutta l'evoluzione contiene questo principio di dilatazione, di sviluppo, passaggio in atto da uno stato di latenza, di fase potenziale, che raggiunge la fase cinetica. E' questa una tendenza costante nell'universo e in questo caso significa trasformazione del movimento di rotazione in movimento di traslazione. Commento Grazie. 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 Grazie.